Come vedete accanto a me una stella di Natale, un fiore tipico di questo periodo dell'anno, ma soprattutto un fiore che identifica una delle iniziative benefiche più note, la raccolta fondi a sostegno della ricerca promossa dall'AIL, l'associazione italiana contro le leucemie. In 4.000 piazze italiane in questi giorni, oltre 25.000 volontari sono impegnati nella vendita delle stelle di Natale. Il ricavato servirà proprio per sostenere la ricerca, per debellare questa terribile patologia. Ne parliamo con Vito Leonetti, presidente provinciale BAT dell'AIL. Innanzitutto Presidente, grazie per essere con noi, è sicuramente un'iniziativa importante. Ma dove siete nel territorio della BAT? Grazie a lei per averci invitato e soprattutto buongiorno ai telespettatori di Teledeon. Noi siamo presenti in tutte le piazze della provincia BAT, nelle principali piazze della provincia BAT, e abbiamo iniziato ieri 8, come in sintonia con la campagna nazionale, e proseguiremo con oggi, domani, sabato, fino a finire domenica 11. Questo è un grande impegno. È davvero una grande iniziativa, ma i fondi andranno, abbiamo detto, alla ricerca, ma non solo. Vede, la particolarità e la peculiarità dell'associazione AIL è che i fondi raccolti nel territorio vengono spesi nel territorio. Quindi, se noi qui raccogliamo 10.000 euro, dobbiamo spendere assolutamente per statuto i soldi ricavati in questo territorio. Noi ci siamo dal 2013 fino ad oggi, anno 2013, anno di costituzione della sezione BAT, fino ad oggi ci siamo interessati soprattutto al migliorimento della qualità del reparto di ematologia di riferimento dell'ospedale di Miccoli di Barletta. E ora partiremo, oltre a continuare in questa opera di sensibilizzazione, di ammodernamento, anche nell'iniziare l'assistenza domiciliare dei malati ematologici. Ecco, questa è un'iniziativa molto, molto importante, che servirà ad aiutare non soltanto chi ha la patologia, ma le famiglie che subiscono i riflessi negativi di questa patologia. Come sempre accade quando c'è un malato, la prima cosa che il malato chiede al dottore il giorno del ricovero è quando mi dimetterete, perché il malato sente sempre una fase provvisoria e negativa della propria vita la sua adegenza in ospedale e lui spera sempre di tornare a casa nel suo ambito professionale. Quando questo è possibile, noi assicureremo con la nuova assistenza domiciliare tutte le cure necessarie e dovute al malato anche a casa sua. È davvero un'iniziativa benefica? Lanciamo un appello perché si possa davvero acquistare queste stelle di Natale. Certo, noi saremo in tutte le piazze. Ad Andrea siamo presenti in quattro postazioni, a Barletta in due, a Trani in due e a Bicelli una fissa e in piazza Vittorio Emanuele. Quindi invitiamo chiunque ad acquistare una stella. Oltre ad avere una stella che è sempre, come ha detto lei, il simbolo di Natale, quindi una cosa bella anche da tenere in casa, fate una grande opera di beneficenza. E allora ringraziamo dunque il dottor Leonetti.